Seconda edizione del bando Cultura Motore di Sviluppo, che punta a sostenere realtà del terzo settore della provincia di Varese, impegnate nell'organizzazione di eventi culturali sul territorio, a promuovere l'iniziativa Camera di Commercio e Fondazione Comunitaria del Varesotto, che mettono a disposizione 120.000 euro, ma oltre ai contributi per le realtà beneficiarie sarà un vero percorso di crescita. È finalizzato non tanto a sostenere cicli teatrali, di concerti, ma la capacità degli enti senza scopo di lucro che operano nell'ambito della cultura di rafforzare la loro struttura, quindi sviluppando l'amministrazione, l'organizzazione interna, le capacità di comunicazione, di raccolta fondi. L'anno scorso è stato un successo, hanno partecipato in nove e abbiamo visto dei progetti veramente interessanti. Speriamo che quest'anno ci sia anche qualcuno che si aggiunga ex novo, perché vale veramente la pena e consente anche alla cultura sul nostro territorio di essere più strutturata. La partecipazione al bando è aperta fino al 27 aprile. Saranno premiate in particolare le realtà in grado di contribuire attraverso i propri eventi allo sviluppo economico e sociale del Varesotto, anche in termini di attrattività turistica. Dove c'è cultura e bellezza la Camera di Commercio di Varese non può non esserci. Riteniamo che siano bandi strategici, sono bandi che vengono anche diffusi a livello europeo, non dimentichiamoci che rientrano anche all'interno di progettualità europee, quindi del 2030 e quant'altro. Sono prodotti inoltre, possiamo definirli made in Italy, quando si parla di bellezza, di cultura, si riconosce sicuramente un'attività italiana al 100%. Dobbiamo essere capaci di tutelarli, di svilupparli e soprattutto di promuoverli.